Perchè non si è cancellato quel fritto lì? No, che hai detto tu che gli adulti anche ti fanno. Che adulti che ti fanno che hai fatto il fritto te. Perchè si è cancellato? Cosa potete dire pioppo? Pioppo è il nome di un alba? No, che si è cancellato il video. Si è cancellato il video? Si, che non sei l'uffizia. Si è spento prima. Si è spento? Poi no. Truus Domesticum. Qua hanno messo i fritti. Poeticamente abitualmente. Visto, che bella fai vivante. Ho fatto la scena. Ho fatto le piante. Guardi che da pallavrudo. puoi. Puoi che sarà passato.